Forse Sì, sono molto fiduciosa mercoledì stavo bene comunque arrivo da un buon periodo in cui sto appunto ritrovando i giorni migliori oggi si vedrà sicuramente la mia seconda volta qui in questa gara però è come se fosse la prima volta perché l'ultima volta non è andata molto bene ed ero caduta però dai si vedrà come andrà oggi e sicuramente punterò a fare molto bene Ma queste salite corte molto impegnative sono fatte per te? Ma perché no alla fine anche mercoledì erano salite molto corte e credo che comunque si addicano alle mie caratteristiche Ok, va bene E come la vedi questa gara oggi? Ma sicuramente tutto dipenderà da cosa vorrà fare SD Works sicuramente sono una squadra molto forte e quindi si vedrà durante la gara Secondo te tu devi andare avanti prima di loro? No, no quello no alla fine si vedrà sicuramente posso stare un attimo sulle ruote e poi una volta arrivati sui giri finali si vedrà come fare la gara Ok, bocca al lupo Prepi lupo Ciao 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 Ciao